La Final 8 si assegna lo scudetto per l'Under 14 del tennis ad Arezzo. Sono numeri importanti, è il secondo sport italiano, abbiamo sentito per numero di tesserati. Tra l'altro una competizione nella quale il tennis giotto proverà a portare a casa lo scudetto? Sì, ci proveremo con tutte le nostre forze perché è una grande soddisfazione per primo essere la location dove si svolge questi campionati italiani. Come ha detto il nostro direttore abbiamo scommesso su questi campionati quindi siamo diventati assegnatari ben prima che noi ci qualificassimo. È una grande occasione per Arezzo perché si assegna un titolo italiano, è una grande occasione per vedere le promesse del tennis italiano. Si parla di bambine che a livello assoluto giocano già a torne internazionali quindi sono destinate ad essere delle grandi giocatrici. C'è la campionessa italiana che gioca nel Napoli e noi ci confronteremo con la nostra squadra ben compatta che vorrà dire sicuramente la sua e proveremo a vissare quello che abbiamo fatto un paio di anni fa a livello Under 12. È difficilissimo ma ci proveremo. L'appuntamento possiamo dire che inizierà già giovedì con l'arrivo delle squadre ad Arezzo e poi come si svolgerà fino a domenica? Allora giovedì alle 19 avremo l'estrazione del tabellone, vengono stabilite le teste di serie e il tabellone. Quindi le squadre arriveranno già nella giornata di giovedì con l'allenamento, con i campi di allenamento. Da venerdì mattina alle 10 si comincia a giocare, si gioca contemporaneamente su quattro campi, quindi sono quattro match diversi. Ogni match comprende due singolari e un doppio e il tabellone prevede quarti, venerdì, semifinale sabato e finale domenica anche per i perdenti perché si giocherà anche per il settimo, ottavo posto. Il tennis giotto punta anche sul fattore campo visto che giocherà in casa con la propria squadra? Noi invitiamo tutti gli aretini, è importante il nostro valore aggiunto e il motivo per cui si è cercato di organizzare qui la competizione. Alessandro Fratini ci ha permesso di averla qui chiedendo l'organizzazione alla federazione, quindi sì, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché ci proviamo.